Pescara dopo 40 giorni è tornata in zona arancione, hanno riaperto i negozi, Tauci, una soddisfazione per tanti esercenti dopo oltre un mese e mezzo di sofferenza. Sì, erano 5 settimane consecutive che le attività erano chiuse, poi a seguito di un blocco dei saldi, quindi è naturale che questa riapertura ci fa vedere un po' di luce rispetto al passato. Sperando che sia solo un vago ricordo brutto quello di queste 5 settimane, riparte un'attività commerciale che ha risentito in maniera importante di questa condizione. Purtroppo aree come quella di Montesilvano che è adiacente a Pescara continuano a mantenere una zona rossa, ci saremmo aspettati un calcolo medio su tutta l'area metropolitana per consentire tutti quanti di poter riaprire. Comunque intanto qualcosa sta partendo e ci aspettiamo nei prossimi giorni anche un maggiore movimento nelle attività. Sempre, e lo diciamo sempre, nel rispetto delle norme Covid per tutti coloro che frequenteranno le attività. Quindi un'attenzione al distanziamento, un'attenzione al camminamento. Insomma, stiamo attenti ma facciamo ripartire l'economia pescaresa. Capitolo ristori, qual è invece la situazione? Assolutamente drammatica. Il ristoro da parte del Governo è veramente residuale rispetto al danno che hanno subito le imprese. C'è da dire che la Regione Abruzzo dovrebbe mettere mano al portafoglio per quanto riguarda le zone rosse decretate dalla Regione Abruzzo relativamente a quei comuni che hanno fatto cinque settimane di chiusura e non sono mai andati in zona arancione. Per cui lì chiediamo anche un'attenzione particolare da parte della Regione perché quelle imprese devono essere comunque dotate di un ristoro perché ci sembra che i fitti e che i costi fissi per mantenere le attività siano comunque stati pagati da tutti gli imprenditori.